Nella serata di ieri lunghe file si sono creati in alcuni supermercati della provincia di Oristano, tanto che qualche punto vendita ha deciso di contingentare gli ingressi per evitare sovraffollamento. E l'effetto del paventato rischio di blocco del settore dell'autotrasporto in Sardegna far scattare la paura alla diffusione di alcuni messaggi vocali che da ieri mattina hanno cominciato a circolare nelle chat sui telefonini parlando di un possibile blocco totale degli autotrasportatori a partire da lunedì. Da lunedì la maggior parte dei camionisti, già più di 300, hanno aderito allo sciopero e si fermano, annuncia il messaggio. Se potete fate scorta di acqua, grissini e crackers e roba in scatola. L'annuncio di un'assemblea degli autotrasportatori convocata a Tramazza ha sicuramente aumentato le paure. L'ipotesi in discussione è quella di sospendere le consegne da e per la Sardegna con le inevitabili conseguenze. Gli autotrasportatori lamentano costi del carburante, ormai alle stelle. Gli operatori della grande distribuzione invitano alla calma, ci sono scorte e verranno attivati gli strumenti utili per garantire un corretto approvvigionamento dei beni di prima necessità. Non è necessario correre tutti col carrello in mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.